Signore e signori, benvenuti all'inizione 20-24 del Carnevale di Pianeggio. Buon valore, tutto a pianto, avanti! Viva la Dugna Marta, viva il Pianeggio! Buon valore, tutto a pianto, avanti! Il Carnevale di Pianeggio è un carnevale ricchissimo di cultura, di talento, di creatività artistica. Il carro è una sintesi portendosa. Vai, allora parto! Quando il carro esce per la prima volta in passeggiata, lo vediamo per la sua grandezza. È l'emozione di vedere il tuo lavoro e il movimento. Nasce, cresce, esce fuori dall'anga, diventa un'emozione. Credo che la parte più emozionante del mio lavoro sia il veder nascere un'idea. Signore e signori, benvenuti al Carnevale di Pianeggio. L'idea di questo tipo di lavoro nostro mi affascina il fatto che da un piccolo scarabocchio si passa ad un bozzetto grande e poi si arriva a creare qualcosa di grosso che sfida sulle persone. Sicuramente nel nostro lavoro la cosa più emozionante è la creatività. Il poter progettare un qualcosa e questo pensiero poi renderlo tridimensionale. Se questo messaggio riesce davvero a smuovere emotivamente una persona che osserva, quello è, diciamo, una delle parti che mi interessa di più. Mi emoziona quando il carro diventa il ponte per incontrare le persone. Il Carnevale è figlio del suo tempo, figlio delle persone che lo realizzano. È tradizionale ma è sempre calato in una contemporaneità leggermente retroattiva. Di solito si trattano argomenti relativi a quello che può essere la quotidianità o quello che succede nel mondo. Viva il Carnevale di Pianeggio! 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 Sono veramente soddisfatto. Mia figlia mi ha spinto e mi ha dato quell'energia che io stavo perdendo. È un passaggio positivo. Come mio padre ha fatto con me, io sto facendo con lei. Tutto quello che abbiamo fatto in questi quattro mesi parallelamente e contemporaneamente siamo una super squadra fortissima. Sono pronto per il 151esimo anno di questo Carnevale assolutamente. A questo Carnevale vedo che sta andando bene. Ci sta sempre, ogni anno, aumentando in continuazione. Il Carnevale di Pianeggio è il Carnevale di Pianeggio. C'è un bel gruppo di costruttori che ancora portino ottime costruzioni in passeggiata. Il Pianeggio per il momento ha un bel noccio di costruttori. Mi sono reso conto di aver scritto qualcosa di magico. Ecco, prima la canzone del Carnevale è quella lì. Chiudi gli occhi e ti immagini il Carnevale. E' come quando non ti d'accordo, te la fai, te la fai. E' il tempo di vita. Viva. Viva. E' Jacopo Genghii, secondo Prennone. Ascolta ragazzo, il Massimo è Alessandro De Veschi. Primo Prennone. Va donna ti porta il gole tui dal provo all'Unici. Il Carnevale di Reggio è il sole, ma il sole non solo fisico, ma il sole per veramente integrarsi, per amare, perché il Carnevale è amore, è eros, io lo dico sempre, ma un eros orgiastico di bellezza e di amore, veramente, perché senza amore non si può vivere e senza il Carnevale è lo stesso.